Ora, io ho proprio due parole di introduzione, mi permetto di fare questa introduzione molto informale e do il benvenuto a tutti. È un grande piacere di aprire appunto questo ciclo di conferenze sul tema Open Access, Open Source, Open Science, Open Data. È un evento pensato al DACD ma naturalmente open a tutta la SUPSI e vedo anche una partecipazione da qualche collega al di fuori del dipartimento che mi fa particolarmente piacere. Immagino che tutti avete sentito di questa attività intorno a Open Access, Open Science, iniziato da diversi anni per la verità e concretizzato diciamo un po' più, in modo più elaborato per le scuole università professionale e le università Swiss University nel 2017. Un documento Swiss University appunto che si impegna a definire una policy per tutte le istituzioni in questo ambito. E quindi anche la SUPSI ha sottoscritto questa policy e diciamo con la commissione ricerca della quale faccio parte come responsabile della ricerca del DACD stiamo anche definendo insieme anche a Yolanda e altri esperti esterni delle questioni pratiche come per esempio la scelta per l'implementazione del repository e così via. E quindi anche per la SUPSI è un tema di attualità e abbiamo notato, questo è un po' il motivo per il quale abbiamo ideato questo ciclo di conferenze perché per tanti questo tema è ancora una sconosciuto. Quindi abbiamo voluto organizzare qualcosa che ci permette di informare, di creare anche un po' una conoscenza di base un po' per tutti, condivisi da tutti, informare e sensibilizzare i ricercatori su questa tematica perché appunto tutti gli enti dal Fondo Nazionale alla Commissione Europea vanno nella direzione di Open Access, Open Data e così via. Quindi ci sembra necessario e utile fare qui un'introduzione che illustra un po' tutto quello che è legato a questa tematica ma anche vogliamo dare delle informazioni pratiche, strumenti concreti e veramente dare un primo supporto, un primo aiuto a muoversi in questo nuovo mondo che si sta aprendo. Quindi vogliamo anche un po' un confronto, siamo qua anche per rispondere a domande e abbiamo pensato appunto di iniziare con una presentazione più generale da parte di Yolanda. Yolanda pensa che si occupa da tanti anni di temi di Open Access, Open Science, Open Data. Lei ha un dottorato in antropologia sociale e etnologia, adesso poi devo vedere, all'Università Ecole sulle Scienze Sociali a Parigi e quindi una persona altamente qualificata in questa tematica con anche già una lunga esperienza con ricerca, ricerca per la tesi di dottorato, ma anche poi attività che sono seguiti successivamente. Per le prossime poi tre eventi abbiamo invitato un esperto direi proprio del mondo dell'Open Access, Alessandro Pierno, responsabile della rivista per la Firenze University Press, quindi veramente vive nel centro diciamo di questo movimento. Poi lui è anche appunto ha seguito da vicino tutto lo sviluppo sull'Open Access, Open Science. È già intervenuto in un evento della SUPSI, è una persona appunto altamente qualificato, ma anche molto piacevole a sentire. Quindi penso che sia un modo anche interessante ad entrare in questo mondo. La modalità è quella della presentazione in rimoto, questo a distanza, chiaramente questo è un po' un difetto e ci rendiamo anche conto appunto che siamo tutti un po' fattigati di seguire in questa forma, ma è un'occasione comunque che volevamo accogliere prima, diciamo della pausa estiva. E quando parliamo di noi devo menzionare soprattutto Francesca Pichet dell'IMC, che ha avuto diciamo l'iniziativa, l'idea di fare qualcosa in questo ambito e poi ha organizzato essenzialmente con Yolanda Pensa questo ciclo. Quindi ringrazio tantissimo entrambe per l'iniziativa e anche l'impegno che non è da poco, che comunque hanno preso accanto a loro già molti altri impegni e sono molto grato a loro di aver organizzato questo ciclo di conferenze. Francesca Pichet penso l'ha fatto con due o tre colleghi del collegio e comunque è lei che ha tirato qui il carro e ha organizzato tutto dal flyer e alle date e così via. Quindi grazie di cuore a Francesca e con questo vorrei lasciare senza tante altre parole a Yolanda lo stage, lo schermo per la sua presentazione e poi sicuramente c'è anche spazio per domande e discussioni. Ringrazio Yolanda e a te la parola. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora il compito che mi è stato dato per oggi è quello di fare una presentazione abbastanza generale sull'open science, quindi a dare un'idea del contesto in cui nasce, cosa significa, perché la ricerca sta andando nella direzione dell'open science, qualche idea di cosa vuol dire poi mettere in pratica l'open science e che cosa sta succedendo alla SUPSI. Comincio subito con Swiss Universities. Come già diceva Roman nell'introduzione, ormai la Svizzera sta andando nella direzione dell'open access. Abbiamo un obiettivo molto ambizioso, entro il 2024 tutta la ricerca in Svizzera sarà open access. Per cui già Swiss Universities con questa polizzi nazionale che coinvolge tutte le università, università farosciule, università e politecnici, quindi tutti quanti stanno andando nella direzione dell'open access. E quello che sta facendo Swiss Universities, quindi questo network delle nostre università, è quello di creare degli strumenti e delle pratiche di accompagnamento. In particolare uno dei temi importanti sui quali si sta attivando Swiss Universities anche con il Fondo Nazionale è quella della negoziazione con le case editrici, che è un tema abbastanza complesso e complicato. Ma non solo, in realtà Swiss Universities ormai nel modo in cui sta promuovendo l'open access sta cominciando a parlare sempre di più e sempre più ampiamente di open science, quindi includendo nelle direzioni in cui le università devono andare i dati aperti in particolare. Quindi non solo open access ma anche un'attenzione particolare per i dati. E questa è una direzione in cui stanno andando un po' tutti nel mondo. Cito ovviamente l'Unione Europea perché è comunque un punto di riferimento sulle politiche dell'open science e ha preso veramente delle direzioni molto forti in questo ambito.